notizia come si dice di servizio allora siccome sto qui oggi anche se il mio giveaway lo dovrò fare stasera ragazzi perché ho detto che lo farò in tempo reale con voi e non lo posso fare perché non c'erò internet qui per voi allora stasera dalle 20 e 30 alle 21 me la faccio tutto live filmo tutto così fino alle 20 di stasera avete tempo di segnare sul mio canale youtube clicchi su giveaway clicchi like ok devi iscrivervi al canale e potete anche voi gareggiare per avere easy drain e easy meal gratuito ok ci siete già tanti mio primo giveaway stasera alle 20 e 30 e annuncerò stasera sempre su quel clip alle 21 chi vince lo so san valentino per tutti voi che è uscita con vostri amori vedrete domani ma per tutti voi che siete un po zittelli vi vediamo alle 21 bacio a tutti ciao